E anche questa settimana E' tempo d'estate, la giornata più lunga dell'anno, il 21 giugno, entriamo a piedi uniti nell'estate ma direi anche con temperature altissime, l'Italia ha vinto la partita di ieri, insomma un po' questi gli argomenti, la campagna vaccinale prosegue di questo e di tanto altro, non parleremo nella puntata di oggi ma sicuramente se ne parla in famiglia sui luoghi di lavoro, al bar quando si prende il caffè con l'amico. Bene, ben trovati a tutti, siamo in diretta e credo che in diretta sia anche la nostra Maria Antone Di Maggio che si trova all'interno della chiesa di San Pio. Buongiorno Maria, benvenuta. Buongiorno Paola, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, auguri a tutti quelli che oggi portano il nome di Luigi, Luigia, Gino, Gina, insomma auguri davvero a tutti quelli che portano il nome di questo santo, San Luigi oggi per l'appunto. Ne abbiamo anche uno tra i nostri tecnici e facciamo quindi direttamente gli auguri anche a lui. Noi siamo qui in diretta dalla chiesa di San Pio e come ogni giorno iniziamo questa settimana sperando di potervi trasferire un po' tutto quello che succede in questi luoghi. Più tardi passerà a trovarci Fra Pasquale e Cianci, responsabile della pastorale giovanile della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. Quindi insomma un filo diretto come sempre tra questo luogo santo e voi che siete in studio ma soprattutto con i nostri telespettatori. Bene grazie, grazie Maria Antonia. Più tardi ho dimenticato di dire l'orario quando abbiamo aperto il nostro appuntamento. Adesso sono le 10 e 47, 10 secondi in questo istante. Con Maria Antonia torneremo a collegarci più tardi. Allora lo ha ricordato lei a inizio collegamento. Oggi la chiesa fa memoria di San Luigi Gonzaga, figlio del marchese Ferrante Gonzaga, nato il 9 marzo del 1568. Fin dall'infanzia il padre lo educò alle armi ma a 10 anni Luigi decise che la sua strada era un'altra. Attraverso l'umiltà, il voto di castità e una vita dedicata al prossimo che lo avrebbero condotto a Dio. A 12 anni riceve la prima comunione, rinuncia al titolo, all'eredità, entra nel collegio romano dei gesuiti dedicandosi agli umili e agli ammalati. Distinguendosi soprattutto durante l'epidemia di peste che colpì Roma nel 1590. In quell'occasione trasportando sulle spalle un moribondo rimase contagiato e morì. Era il 1591, aveva solo 23 anni. Papa Benedetto XIII lo canonizzò il 31 dicembre del 1726 e sepolto a Roma nella chiesa di Sant'Ignazio di Campo Marzio. Questo è il santo che la chiesa appunto celebra quest'oggi. Tra gli accade oggi, poi ricorderemo anche un accade oggi che ci riguarda molto da vicino, il 21 giugno del 1963 Montini e Papa col nome Paolo VI. È la mattina appunto del 21 giugno del 1963 quando dal Vaticano di Roma arriva la tanto attesa fumata bianca. Il cardinale Giovanni Battista Montini e il nuovo Papa è assunto il nome di Paolo VI. A proposito di Papi, non potevamo oggi, il 21 giugno, non ricordare la visita di Papa Benedetto pellegrino a San Giovanni Rotondo, in preghiera anche davanti alle spoglie mortali del santo di Pietrelcina, il 21 giugno del 2009. Papa Benedetto giunse a San Giovanni Rotondo in occasione dell'ostensione e dell'esumazione del corpo del santo di Pietrelcina. Attraverso questa clip storica andiamo a ripercorrere quella giornata memorabile. 22 anni dopo, durante l'ostensione del corpo del santo alla pubblica venerazione, è venuto in pellegrinaggio il successore di Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI, che ha pregato dinanzi alle reliquie del Cappuccino per poi celebrare l'Eucarestia dinanzi alla chiesa lui intitolata. L'Omelia è stata l'occasione per proporre la vita del frate come modello per tutti coloro che si rifanno la sua spiritualità. Cari amici, frate minori Capuccini, membri dei gruppi di preghiera, i fedeli tutti di San Giovanni Rotondo, voi siete gli eredi di Padre Pio e l'eredità che vi ha lasciato è la santità. In una sua lettera scrive, sembra che Gesù non abbia altra cura per le mani se non quella di santificare l'anima vostra. Questa era sempre la sua prima preoccupazione, la sua ansia saccia totale e paterna, che le persone ritornassero a Dio, che potesse sperimentare la sua misericordia e interiormente rinnovate, riscoprisse la bellezza e la gioia di essere cristiani, di vivere in comunione con Gesù, di appartenere alla sua chiesa e praticare il Vangelo. Padre Pio atterrava sulla via della santità con la sua stessa testimonianza, indicando con esempio il binario che ad essa conduce la preghiera e la carità. Prima di ripartire, il Pontefice ha benedetto i mosaici di Padre Marco Rupnik, che hanno impreziosito la chiesa inferiore, intitolata al Santo. Vogliamo ricordare quello che succede nell'abbazia di San Leonardo Abbate in Lama Volara di Siponto, il fenomeno del raggio di luce solare che attraversa il foro neomonico dell'abbazia di San Leonardo, segnando il passaggio dell'estate e si manifesta nel breve intervallo di tempo di un minuto. Ascoltiamo le parole di chi appunto ci ha avuto modo di raccontare questo e grazie ad un breve stralcio di un programma firmato da Nicola Morcavallo, Le vie del sacro e tratto dall'archivio di Padre Pio. Era il 2017. Benvenuti a tutti voi amici, cari amici di Padre Pio TV. Siamo all'abbazia San Leonardo, vicino Manfredonia, un'abbazia che un po' alla volta sta ritornando all'antico splendore. E quest'anno, dopo tanti lavori di restauro e di recupero dell'intera abbazia, si può visitare nuovamente la chiesa. Una chiesa che è stata completamente risistemata, una chiesa che insieme a tutto quanto il complesso abbaziale presto potrà essere visitato nuovamente. Sono stati fatti tanti lavori ad opera del Ministero dei Beni Culturali, il Segretariato regionale della Puglia. E sarà poi un sito molto grande, molto ampio, che comprenderà tante funzioni. Si potrà visitare un museo, un museo archeologico, sarà un centro di spiritualità. E tutto questo a partire da un monastero del XII secolo, di fondazione teutonica. Un monastero che è stato e è chiamato a continuare ad essere un centro di spiritualità. Qui si incontrano storia e archeologia, arte e architettura, scienza e astronomia. E tutto questo è stato reso possibile nel corso del tempo, nel passare degli anni, dei secoli, proprio a partire dallo spirito, dal silenzio, dal raccoglimento della preghiera. Questa chiesa, una delle poche chiese che ha questa possibilità del foro gnomonico, questo foro attraverso il quale passa un raggio di sole, che attraversa tutta quanta l'area della chiesa, lo spazio della chiesa fra queste due colonne, e al centro esattamente indica il passaggio dalla stagione della primavera all'estate, esattamente alle 12.58. Quello che oggi si può ammirare è un segno di quanto, nel corso del tempo, gli antichi monaci avevano pensato, avevano collegato, tra l'aspetto architettonico, scientifico e spirituale. E purtroppo quest'anno, per il secondo anno consecutivo, a causa appunto della pandemia, non sarà possibile assistere dal vivo a questo fenomeno, anche perché lo spazio è ristretto e quindi impedisce il distanziamento interpersonale. Per questo motivo le istituzioni competenti hanno deciso di chiudere al pubblico l'abbazia di San Leonardo per tutta la mattinata di oggi, fino al termine del fenomeno del solstizio. L'abbazia aprirà regolarmente alle ore 15. E allora, rimaniamo in quel di Manfredonia, che è un po', potremmo dire, la patria del pesce, perché andiamo in cucina, lo facciamo attraverso una ricetta confezionata per noi dalla collega Anna Maria Salvemini, che qualche tempo fa appunto ha girato il gargano non solo per scoprire le bellezze naturali e paesaggistiche, ma anche quelle culinarie. In antichità, l'uomo mangiava solo il pesce. Solo dopo e solo sulle tavole dei nobili è comparsa la carne. Da quel momento, il pesce ha avuto un declassamento, perché fu considerato cibo per poveri, per pescatori. I ricchi lo mangiavano solo di venerdì per usanze della chiesa, dove era considerato segno di digiuno, penitenza e simbolo di Cristo. Oggi viene mangiato in maggior quantità, perché è leggero, digeribile e contiene sostanze importanti per l'organismo. Gli antichi romani usavano il pesce azzurro per fare le salse e dal 1700, quando si diffuse la tecnica della conservazione sott'olio, entrò a far parte dell'alimentazione dei popoli dell'entroterra. Azzurro per il colore blu del dorso e per il ventre argentato, economico perché è presente in enorme quantità nei nostri mari. È un alimento che si adatta anche come piatto veloce per tutti i giorni e ad ogni tipo di cena, dalla più elegante alla più amichevole. È per questo che noi di Andate e Ritorno, qui, non ci sentiamo pesci fuori d'acqua. Cosa c'è qui? Ricci, canalicchi, dimmi tutto. Qui abbiamo varie qualità di frutti di mare, ostriche, cozze pelose, la noce, sarebbe il tartufo bianco, la spugna, la spugna di mare. Tutti profumati, questo è un crudo che si presenta poi. Abbiamo i cannelli vivi, abbiamo tutti i tipi di frutti di mare. Spostiamoci da questa parte perché poi questo locale è particolare, happy hour serale, a Vieste, insomma, c'è la pescheria, direttamente il pesce fresco viene servito in tavola. È giusto. E c'è anche il cotto, c'è il fritto. Allora, noi facciamo tre piatti, facciamo il piatto del crudo che ci sono tutti i tipi di frutti di mare, poi ci abbiamo l'altro piatto, il piatto del cotto, è l'insalata di mare, alici marinate, gamberi, insalata con olio, limone e prezzemolo e filetto di sardina farcita con l'oliva. Tutto buono. Ed è un piatto. Qual è il più richiesto? Diciamo che il più richiesto è il crudo. Il crudo. E poi ci abbiamo la frittura che va a... A go go. Va a valanca proprio. Insomma, il pesce non si rifiuta mai. Poi questi in particolare, appunto il crudo, non si trovano dappertutto. No, diciamo che c'è un lavoro molto particolare per i frutti di mare perché è un lavoro molto delicato. I frutti di mare sono molto delicati e c'è una procedura molto... Fantastico. Molto buona. Io intanto che aspetto i miei amici che ci raggiungeranno poi per mangiare, voglio sapere che cosa ci porti oggi a tavola. Sì. Un po' di misto. Mi faremo assaggiare un po' di crudo. Un po' di insalata animale. Il piatto del cotto, diciamo. Poi abbiamo i gamberoni fatti a forno gratinati, seppiolina. Abbiamo il salmone marinato fatto sempre da noi e il risotto di mare freddo. Che bontà, che bontà ed è bello poter rivedere questi stralci che ci portano anche se idealmente a viaggiare, a scoprire, a riscoprire questi luoghi meravigliosi della nostra terra che è il Gargano. E allora, adesso apriamo un altro capitolo un po' più sacro perché vogliamo andare, siamo andati o meglio, a riprendere dagli archivi di Padre Pio TV delle testimonianze di persone che hanno conosciuto il santo di Pietrelcina, lo hanno testimoniato e quindi hanno accolto il nostro invito a raccontarlo davanti alle nostre telecamere, il che non è sempre facile. Andiamo a riascoltare uno stralcio di un'intervista dell'ingegner Gaspare della sua storia con Padre Pio. Ufficiale pilota passavo periodicamente visite di controllo perché avevo un incidente e sul tavolo del medico, ufficiale medico che mi controllava in queste visite periodiche c'era sotto la lastra di vedo c'era una fotografia di un frate poi sono diventato amico con questo medico molto buono molto intelligente e però dentro di me pensavo tutta sta devozione a un frate chi è sto frate Francesco Nove l'altro e poi una volta posi la domanda chi è Padre Pio poi per rinnovare la patente atomopilistica avevo qualche problema lo dissi anche a questo medico lo chiederò al padre se io devo prendere la patente e tra di me ma che che va a chiedere un frate se devi fare ma non è contro gli miei temati ma questa ripeto contrastava l'intelligenza viva di questo con certe espressioni così di limitate poi decido di fare una 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 crociera in Grecia prendo il biglietto di aereo combino tutto se non che passando per via nazionale vedo un'offerta molto molto vantaggiosa crociera in nave torno indietro se mi riprendo il biglietto di aereo faccio questa e la faccio e riesco a farlo questa prevedeva la partenza da Brindici nel salutare questo mio amico medico e dico guarda in treno vado fino a Brindici ma perché non vado a Padre Pio tempo c'era ho accettato sto suggerimento quasi per farlo contento passando ovviamente sempre con me mi sono fermato a Foggia sono salito qua su sono andato in un unico alberghetto per fare che c'era il San Michele sono stato la notte parlavo un po' di Padre Pio sì sì domattina c'è la messa al presto ma non sarei andato forse più tardi se anche i rumori che facevano in un alberghetto mi sono svegliato mi sono alzato e poi andiamo su sono andato alla messa di Padre Pio la diceva nella chiesetta piccola e ho visto sta gran confusione quando hanno aperto la porta le solite vie donne e poi sono riuscito lento lento a avvicinarmi proprio al ridosso dell'altarino di San Francesco è durata quasi due ore strano ho detto con una suavità con una dire con una leggerezza sì ho visto questo frate che faceva delle mosse molto contenute niente esibizione però al momento dell'elevazione anche prima aveva come delle mosse strane avvicinava la potena poi l'allontanava poi si chiudiva poi sta in più ecco l'ho osservato ma niente di più però il fatto che sta messa così lunga non mi ha dato nessun disturbo io ero abituato quando andavo a messa alle prediche naturalmente me ne uscivo poi rientravo insomma mi bisogna essere un po' breve qui è stata una suavità rimani sempre senza parole quando ascolti le testimonianze di coloro che hanno conosciuto Padre Pio poi continueremo anche nei prossimi giorni ad ascoltare l'ingegner Gasparri in questa sua testimonianza molto forte e molto forte anche un'altra bella testimonianza che però ascolteremo dopo di un ex giocatore anche come dire un personaggio importante del panorama calcistico italiano intanto quando sono le 11 e 4 e prima di tornare a collegarci con Maria Antonia di maggio facciamo una brevissima pausa e poi ancora insieme state con noi perché tempo d'estate vi aspetta e vedo già pronta in compagnia del suo ospite Maria Antonia in diretta dalla chiesa di San Pio 11 e 6 minuti in questo istante a te la linea eccoci qua con questa bellissima sorpresa già annunciata all'inizio della nostra diretta ecco abbiamo anche un fiore di quelli che volano non so come si chiamano però pare che insomma siano tipici di questo periodo estivo allora fra Pasquale Cianci ben trovato buona giornata a tutti saluto a tutti i pellegrini e i fedeli che sono collegati con noi e che attendono la preghiera ecco l'Eucarestia la Santa Messa che appunto sarà da lui celebrata stavamo chiacchierando prima di entrare in diretta cercando di andare a pescare i ricordi personali di Fra Pasquale perché come l'abbiamo già ricordato vivremo stiamo vivendo i festeggiamenti per il ventennale della canonizzazione di Padre Pio che saranno aperti ufficialmente proprio il 26 giugno di questo mese con una sorenne celebrazione eucaristica alle ore 18 questa settimana seguiteci anche sui nostri canali social sul nostro sito perché sarà una settimana ricca di eventi anche la programmazione diciamo ordinaria subirà delle variazioni quindi siccome la nostra voglia il nostro compito è quello di raccontarvi portare nelle vostre case quello che succede qui tenetevi appunto in stretto contatto con noi in modo da essere aggiornati su tutti i cambiamenti anche di palinsesto e dicevamo il ricordo di Fra Pasquale che mi fa piacere che lui condivida anche con tutti voi nel giorno della canonizzazione 20 anni fa che ricordo hai? Sì io ricordo quel 16 giugno soprattutto con un caldo simile a quello che stiamo vivendo in questi giorni un po' in tutta Italia era un caldo enorme che avvolgeva che abbracciava tutti i pellegrini che erano riuniti in piazza San Pietro io ecco ero un giovane frate uscivo appena proprio dalla formazione teologica infatti avevo ricevuto l'ordinazione diaconale un mese prima e fu per me ecco provvidenzialmente questo un onore e una grande occasione di poter essere presente a quella celebrazione da diacono e ebbi ecco il grande onore di cantare il Vangelo in latino proprio durante la celebrazione della canonizzazione ricordo molto forte il momento in cui ecco avvolto da quel caldo dovetti andare dinanzi a Giovanni Paolo II il pontefice che presenziava quella eucarestia e chiedegli la benedizione ecco il diacono prima di cantare il Vangelo prima di proclamare la parola di Dio chiede la benedizione al sacerdote che celebra in quel caso il Papa una grande emozione perché Giovanni Paolo II era già accasciato diciamo sotto i suoi problemi di salute poi quel giorno di caldo davvero non lo aiutavano però ricordo questo questo istante lui aveva il capo un po' reclinato e quando gli ho chiesto padre ecco mi mi benedica in latino lui ha alzato lo sguardo e mi ha guardato con quell'occhio penetrante che soltanto lui aveva quando ti guardava e ti forava dentro ecco ti arrivava nel cuore ero pieno di paura perché era un'emozione cantare il Vangelo poi io non è che canto spesso quindi però in quel momento quello sguardo mi ha dato una grande carica ecco quell'adrenalina spirituale che mi ha portato poi a proclamare davvero con amore con passione e con devozione quella parola di Dio sono quelle giornate anche questi ricordi quei momenti che in qualche modo segnano il percorso di ciascuno di noi sono davvero quando diciamo i ricordi indelebili perché poi cambiano anche in qualche modo la nostra vita ora sono passati vent'anni tu oggi sei responsabile della pastorale giovanile lo ricordavamo prima avere a che fare con i giovani è una grande sfida soprattutto in questi tempi sì è una grande sfida ma sempre comunque una grande responsabilità io lo sento questo servizio con una grande responsabilità perché credo che accostarsi al al giovane per un sacerdote per un sacerdote è sempre un po' come accostarsi a Gesù nell'eucaristia quella carne che noi tocchiamo nel sacramento ecco diventa davvero tangibile nella carne nella storia dei giovani per questo credo che ecco noi quando usiamo delle etichette per identificare proprio il servizio diciamo proprio servizio di responsabilità e credo che proprio sia proprio questa la parola più adeguata responsabilità in un momento come questo dove davvero la vocazione c'è il Signore chiama però ecco i giovani ancora trovano un po' difficoltà tante difficoltà perché le chiamate sono tante le attrazioni sono tante però credo che la voce del Signore anche se sottile silenziosa a volte anche fragile credo che sia la voce più forte quella che non non terminerà mai il Signore continuerà sempre a chiamare a noi il compito semplicemente è di un po' come accade quando dobbiamo trovare un ago nel pagliaio ecco liberare quell'ago da tutta quella paglia e far uscire fuori quella verità che è la chiamata del giovane cioè fra Pasquale il tempo estivo immagino sia un tempo anche di riposo per le attività pastorali poi è stato anche un anno in cui anche semplicemente organizzare fisicamente è stato difficile per fortuna in qualche modo la tecnologia vi è venuta anche in aiuto pensiamo appunto al mese di maggio e tanti giovani collegati via Zoom c'è comunque un indirizzo un portale uno spazio social dove tanti giovani che magari sono già affascinati o quelli che sono pronti per essere affascinati dal messaggio di Dio possono andare a visitare anche per avere dei contatti per mettersi in contatto con voi sì ecco approfitto grazie di questa occasione Maria Antonia per ricordare ai giovani che vogliono contattarci noi abbiamo due pagine facebook accoglienza giovani padre Pio che riguarda un po' i giovani in senso generale poi coloro che magari sentono nel cuore il desiderio di approfondire la chiamata del Signore ecco abbiamo la pagina vocazioni padre Pio scrivendo un messaggio privato su quelle pagine possono raggiungerci direttamente ecco anche quest'anno tra l'altro non abbiamo pensato a tante iniziative perché il covid ha messo un attimo in discussione proprio sempre questa presenza ecco l'essere in presenza però ecco noi siamo comunque ci siamo liberati anche questo non vuol dire che non non siamo a disposizione ma siamo qui ecco come due braccia pronti ad accogliere ad ascoltare i giovani che possono venire qui come pellegrini a San Giovanni e abbiamo la possibilità anche di accoglierli magari se loro vogliono stare qualche giorno con noi non abbiamo tantissimi posti io personalmente gestisco una piccola casa casa Maria Pail dove abbiamo pochissimi posti però magari prenotandosi o mettendosi in contatto con noi c'è la possibilità di fermarsi qualche giorno con noi ed è sicuramente una grande ricchezza quindi davvero invitiamo tutti i giovani neanche a superare magari quella paura a mettersi in discussione in un periodo in cui siamo stati fin troppo chiusi per ovvie ragioni abbiamo dovuto farlo però insomma questo può essere anche un momento di rinascita sotto tutti i punti di vista noi ringraziamo davvero Fra Pasquale per essere sì c'è Paola che vuole farti una sì a parte va bene per salutare Fra Pasquale ma anche per ricordargli un altro appuntamento che ci manca il perdono del Gargano il cammino a piedi da Monte Sant'Angelo a San Giovanni speriamo nel 2022 esatto Paola ti saluta e ricordava anche un appuntamento che purtroppo è venuto a mancare in questi tempi ovvero il perdono del Gargano il cammino il pellegrinaggio da Monte Sant'Angelo a San Giovanni Rotondo che speriamo di poter rivivere presto magari nel 2022 ci possono essere queste possibilità certo noi stiamo comunque pensando di non far passare questa data così in modo inosservato ecco magari in modo spontaneo credo che alcuni di noi in pellegrinaggio ci metteremo compieremo questo pellegrinaggio e poi ci sarà comunque una celebrazione che ricorderà questo evento ecco il primo luglio celebreremo ecco perché è comunque la memoria della chiesa della dedicazione di Santa Maria delle Grazie e della Chiesa Antica allora ci teniamo pronti come sempre a raccontarlo ai nostri telespettatori grazie ancora Fra Pasquale Paola io restituisco a te la linea liberiamo Fra Pasquale che ricordiamo sarà lui appunto a celebrare la Santa Messa delle 11.30 bene grazie grazie a entrambi allora vi ricordo l'appuntamento con la Santa Messa alle 11.30 in diretta dalla Chiesa di San Pio ricordandovi anche l'appuntamento pomeridiano con il Santo Rosario alle 17.30 e con la Santa Messa alle 18 e allora c'è una testimonianza però è una testimonianza che rimanderei alla seconda parte del nostro appuntamento prima dei saluti finali quindi dopo la celebrazione eucaristica perché adesso è arrivato il momento delle foto come sempre invitiamo i nostri amici a condividere insieme a noi la foto ricordo le foto ricordo del loro pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo e quindi scriveteci infochiocciola teleradiopadrepio.it ma prima ecco quindi scriveteci inviateci le vostre foto gruppo di preghiera parrocchia o magari se siete venuti in pellegrinaggio in famiglia anche foto di diversi anni fa o recenti insomma condividetele con noi voglio condividere con voi oggi due foto la prima è una foto storica giugno mese dedicato ai matrimoni per eccellenza quest'anno a maggior ragione visto che molti dell'anno scorso lo hanno rimandato a quest'anno il proprio matrimonio e quindi vogliamo a questo proposito mangiare i tanti sposi che quest'anno si uniranno nei voti nuziali con una foto storica questo è Padre Pio siamo nella chiesa antica di Santa Maria delle Grazie Padre Pio che benedice i novelli sposi Rocco Orefice e Ida Fiorillo da Casoria in provincia di Napoli era il 31 maggio del 1955 guardate uno scatto storico davvero molto bello grazie anche all'archivio di voce di Padre Pio che bella immagine e poi invece andiamo a ricordare un altro gruppo venuto in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo nel 1985 nell'aprile del 1985 pellegrini sulla tomba di Padre Pio un gruppo proveniente dalla Campania da Torre del Greco che ha deciso poi di scattare questa foto dinanzi la via Crucis anche questo uno scatto molto bello storico che ci riporta un po' indietro nel tempo e allora detto questo tra qualche istante ci fermeremo per un'altra pausa pubblicitaria intanto vorrei nuovamente ricordarvi il nostro indirizzo di posta elettronica info chiocciola teleradiopadrepio.it condividete con noi e con i nostri amici telespettatori le vostre foto ricordo foto di gruppo scattate a San Giovanni Rotondo in occasione del vostro pellegrinaggio e vi ricordo anche che se sarete pellegrini nella nostra città potete anche contattarci per raccontare la vostra storia emozioni devozioni storie appunto legate al santo di Pietrelcina quindi vi aspettiamo e allora ci fermiamo qualche istante breve pause poi ancora insieme con Tempo d'estate rimanete con noi poi vi ricordo l'appuntamento alle 11.30 con la Santa Messa abbiamo ancora qualche minuto prima di collegarci con la chiesa di San Pio per la Santa Messa allora vogliamo ascoltare uno stralcio di una testimonianza di un grande del calcio italiano Alessandro Mazzola conosciuto anche come Sandro siamo a casa di Sandro Mazzola che gentilmente ci ha concesso in esclusiva un'intervista per raccontare come è nato e come si è sviluppato il suo rapporto con Padre Pio allora la prima domanda è d'obbligo quando e come ha incontrato Padre Pio ma devo dire che prima di incontrarlo io avevo già sentito di parlare di Padre Pio perché mia nonna quando è morto mio papà capitano del Torino cinque sudetti eccetera siamo tornati al paese e vivevamo in casa con la nonna e la zia e mia mamma logicamente che però anche lavorava e alla sera mia nonna ci raccontava di Padre Pio i miracoli e compagnia bella per cui quando poi ho cominciato a giocare una delle prime partite andammo a Foggia a giocare e il nostro allenatore che aveva detto quando Elenio Herrera famoso quando arrivò all'Inter allora lui aveva tutta una sua mentalità andiamo a giocare a Foggia ma noi andiamo da Padre Pio non andiamo 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 prima da Padre Pio e a quel punto cosa succede che tutti i fraticelli erano tutti contenti di vedere i giocatori dell'Inter ce n'era uno che diceva che era mio tifoso mi viene sempre dietro e lui ha detto senti ma io vorrei andare a confessarmi da Padre Pio perché io ho un peccato che il prete non mi assolve da quel peccato sì sì allora alle 6 del mattino però bisogna andare non ti preoccupare che io mi organizzo perché prima delle 9 non si poteva uscire dalle camere con il nostro allenatore allora quindi voi eravate andate la sera prima tutti insieme tutti assieme sì e quindi era una cosa molto ufficiale i giocatori lui io mi ricordo che mi ero messo vicino proprio a lui insieme ai miei compagni però un po' davanti e lo sentii che quando gli spiegarono chi eravamo lui disse ma vengono qui da me perché vogliono vincere e si mise a ridere quindi fu una cosa simpaticissima bellissima e allora io ero con un mio compagno in camera ci mettevano sempre in due in ogni camera e Picchi mio capitano con un altro per non svegliare i due perché noi ci alzavamo presto cambiamo camera che se ci beccava l'allenatore era un disastro e quindi ci alzavamo presto fu una cosa vedere alle 5 del mattino la gente che saliva per arrivare alla chiesa e cantava non avevo mai visto che alla messa si andasse in questo modo era una cosa poi ci portarono dietro e facciamo la confessione mi ricordo che quando gli dissi sa io ho un peccato mortale il mio prete Don Giordano si chiamava il mio prete dice che non può confessarmi non può darmi la benedizione e gli spiegano perché io ho detto un giorno dopo aver fatto la comunione Gesù fammi diventare calciatore come mio papà poi fammi pure morire a 30 anni come lui ma non mi importa e il mio prete mi ha detto che era un sacrilegio che non potevo più confessarmi non potevo più fare la comunione padriggio si bisogna ridere ma no cinque padre ravi a gloria cosa vuoi che sia e vai a casa e quindi ricevete la soluzione da padre ricevete la soluzione da padre io potrei continuare a fare la comunione finalmente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti